Siamo un click.it e noi abbiamo creato una piattaforma per la realizzazione di siti internet, e-commerce e applicazioni native. Tramite una semplice interfaccia web andiamo a creare dal sito più semplice all'e-commerce più avanzato, incluse le app applicazioni iOS e Android, completamente native. Vi faccio vedere velocemente, con pochi click, come andiamo a gestire un nostro sito. Il sito è completamente front-end, possiamo andare a modificare testi e foto passandoci direttamente sopra, con tutte le funzionalità drag and drop di HTML5. dalla creazione delle semplici pagine. Possiamo andare a includere illimitati componenti, molto facilmente. Grazie.